Nella scelta di un condizionatore ad uso domestico, sia che ci si rechia in un negozio fisico o eventualmente si eseguono delle ricerche online, escono fuori una serie di sigle tecniche quale BTU orale, Watt, kilowatt, frigorie, dimensionamento, tipologia di gas, classe di efficienza energetica, installazione, dimensionamento, monosplit, multisplit e via dicendo, che non sono di facile comprensione e pertanto non consentono di scegliere consapevolmente, almeno in prima battuta, un condizionatore. In questo video pertanto vedremo come poterci districare in tutti questi termini tecnici ma soprattutto vedremo 4 punti fondamentali che dobbiamo tenere in considerazione per la scelta e per l'autovalutazione di qualsiasi modello monosplit di condizionatore domestico. La prima cosa da stabilire è se il condizionatore verrà utilizzato solo per il regime di raffrescamento oppure anche per quello di riscaldamento. Il secondo punto da affrontare è il calcolo del fabbisogno termico dell'ambiente che abbiamo intenzione di climatizzare e come terzo punto conseguenziale al secondo stabilire se la potenza termica nominale dell'impianto che stiamo scegliendo è sufficiente per il fabbisogno dell'ambiente e come quarto ed ultimo punto stabilire l'affidabilità del marchio. Stabilire in fase di acquisto se il condizionatore verrà utilizzato solo per il regime di raffreddamento oppure anche come fonte primaria per il riscaldamento è di fondamentale importanza. Difatti i condizionatori dotati della pompa di calore sono in grado di raffreddare e riscaldare un ambiente però è necessario sapere che tra i condizionatori in pompa di calore vi sono delle differenze molto importanti in termini di prestazione ovvero nel regime invernale il condizionatore ha dei limiti tecnici di funzionamento ovvero a determinate temperature esterne il condizionatore potrebbe subire delle perdite di efficienza o addirittura andare in blocco totale. Per determinare questo aspetto è di fondamentale importanza consultare le schede tecniche dei condizionatori quindi del modello che abbiamo intenzione di acquistare per verificare i limiti di funzionamento durante il periodo invernale. Una volta che abbiamo recuperato la scheda tecnica dei modelli o dei modelli che ci interessano ad esempio in questa casa abbiamo una tabella di schede elettriche di condizionatore della Mitsubishi Electric possiamo scorrendola andando nella parte in basso verificare il range di funzionamento in questo caso possiamo notare e constatare che nel campo di raffreddamento ad esempio durante il periodo estivo queste macchine, questi modelli di condizionatore hanno un campo di efficienza che va da almeno 10 gradi a più 46 gradi in altri casi, in altri modelli addirittura anche durante il periodo estivo ci potrebbero essere dei problemi relativi al raffrescamento con temperature particolarmente alte quindi sono dei campi da verificare assolutamente prima di eseguire l'acquisto di un condizionatore di qualsiasi marca per quanto riguarda il periodo invernale quindi la fase di riscaldamento questo dato è ancora più importante quindi sebbene durante quell'estivo potremmo acquistare orientativamente qualsiasi condizionatore sempre stante alla verifica degli altri tre punti che dopo vedremo quindi al dimensionamento dell'ambiente, la potenza nominale del condizionatore e infine all'affidabilità del marchio per quanto riguarda il regime di riscaldamento questo dato è essenziale ed è fondamentale se abitiamo ad esempio in una zona quindi particolarmente fredda dobbiamo necessariamente affidarci e quindi verificare che il campo di funzionamento sia al di sotto della temperatura minima che è mediamente presente nell'ambiente o meglio nella zona, nella città e nel luogo in cui viviamo qui possiamo notare un range di funzionamento che va da meno 10 gradi a più 24 gradi come temperatura esterna e su altre macchine possiamo constatare invece che ci possono essere dei range totalmente diversi ad esempio se volessimo o se abitassimo in delle zone ancora più fredde potremmo eventualmente, ecco qua abbiamo una tabella della Mitsubishi elettriche che ci dimostra che in base ai modelli il range di funzionamento minimo quindi abbiamo dei modelli che sono identificabili con queste sigle riescono a funzionare con range di temperatura fino a meno 15 gradi o addirittura possiamo avere dei modelli che sono compresi con un funzionamento che va da meno 20 a meno 25 gradi con queste sigle quindi se noi volessimo abitassimo in una zona molto fredda ecco potremmo andare, avremmo la necessità di identificare ecco delle macchine come in questo caso che hanno un range di funzionamento che va da meno 25 gradi esterni ai più 24 gradi di temperatura ecco perché in fase di acquisto è fondamentale stabilire se l'impianto dovrà funzionare solo il raffreddamento quindi in quel caso ci potremmo orientare anche su delle macchine che non hanno delle prestazioni quindi dei limiti particolarmente bassi quindi orientarci anche su prodotti leggermente più economici comunque di marchio sempre affidabile nel caso in cui il climatizzatore dovrà essere utilizzato nella mezza stagione o addirittura come fonte principale di riscaldamento è essenziale ed è fondamentale che questo campo di funzionamento rispecchi e quindi rientri quindi riesca a coprire la temperatura esterna che è presente nel luogo in cui viviamo per quanto riguarda il fabbisogno termico che viene anche identificato con termine di dimensionamento ci si riferisce alla determinazione dei BTU che sono necessari per raffreddare o riscaldare un ambiente anche qui comunque viene da fare una distinzione tra le due modalità di funzionamento difatti in regime di raffreddamento sono necessari una quantità di BTU inferiore a quello di riscaldamento per determinare quindi per stabilire la quantità di BTU che sono necessari potremmo moltiplicare l'efficiente che è pari a 321 per quanto riguarda il raffreddamento e a 367 per il riscaldamento questi coefficienti vengono considerati per un'altezza media dell'ambiente di 2,7 metri in questo caso se noi avessimo pertanto un ambiente di 6 per 4 quindi 24 metri quadrati moltiplicato 321 avremmo necessità di 7704 BTU per quanto riguarda il regime del raffreddamento nel regime di riscaldamento invece avremmo per i 24 metri quadrati moltiplicati per 367 la necessità di 8800 BTU una volta che abbiamo pertanto determinato quindi siamo in grado di determinare la potenza che è necessaria per climatizzare un ambiente dovremmo verificare se sull'impianto quindi che stiamo cercando tale potenza rientra nella potenza nominale dell'impianto per fare questo abbiamo bisogno di consultare o l'energy label del condizionatore d'aria sul quale viene riportata la potenza nominale oppure consultare come abbiamo fatto precedentemente la scheda tecnica del prodotto nel quale viene riportata la potenza nominale dell'impianto in questo caso la potenza nominale dell'impianto deve essere superiore alla necessità termica dell'ambiente che dobbiamo climatizzare per quanto riguarda questo confronto è necessario fare una piccola precisazione di fatti il calcolo normalmente viene stabilito in BTU e comunque è l'unità di misura che è universalmente utilizzata però da un punto di vista tecnico l'unità di misura e di misurazione e quindi di esternazione dei dati di un impianto viene eseguita in kilowatt pertanto se noi abbiamo verificato che abbiamo necessità di 7704 BTU per poterlo confrontare sul dato tecnico sulla scheda o sull'energy label dovremo andare a convertire questo dato in kilowatt pertanto dovremo dividere i BTU per 3412 per poter ottenere la corrispondenza in kilowatt da poter confrontare col dato tecnico riportato sull'energy label o sulla scheda tecnica del prodotto e quindi eseguire questo confronto per quanto riguarda l'affidabilità del marchio dobbiamo valutarla sotto due aspetti il primo l'affidabilità in senso stretto quindi della notorietà del marchio più un marchio ovviamente è un marchio noto e conosciuto più siamo sicuri dell'affidabilità del prodotto un altro aspetto da valutare è quello relativo alla presenza di un centro assistenza tecnico sul territorio quindi prima di acquistare valutiamo se quel marchio ha una presenza capillare sul territorio quindi dispone di un centro assistenza tecnico che è in prossimità quindi nella vicinanza della nostra abitazione la determinazione dell'affidabilità di un marchio passa quindi attraverso la notorietà di un marchio ma allo stesso tempo anche se un marchio non è particolarmente noto attraverso la diffusione e la presenza di informazioni tecniche sul prodotto quindi se abbiamo intenzione di acquistare un marchio non particolarmente noto ma vogliamo sincerarci dell'affidabilità innanzitutto dobbiamo riuscire a reperire facilmente delle informazioni tecniche quindi quelle che abbiamo visto precedentemente le schede tecniche sulle quali vengono riportate le potenze i kilowatt il range di funzionamento quindi il regime di raffreddamento ma soprattutto come abbiamo visto il regime di riscaldamento e via dicendo oltre a questo ci sono riconoscimenti che qualificano il prodotto qualificano l'azienda tipo ISO 9001, ISO 14001 o dei marchi che riconoscono la qualità del prodotto tipo i marchi euroventi quindi i Matternese l'azienda tipo i marchi euroventi allora allora la tornata Aspetta